pesaro celebra la giornata della memoria vasto incendio alla profil glass di bellocchi a fano recuperate bici rubate e scoperto ricettatore piena del foglia allagata la sede delle giacche verdi case bruciate strada chiusa per 20 giorni buona serata e un buon weekend a tutti voi amiche amici di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 80 questa è rossini news questo è il nostro telegiornale che in questa edizione di venerdì 27 gennaio apriamo con il significato di questa data quella del giorno della memoria il giorno del ricordo degli orrori della shoah che già questa mattina vi abbiamo documentato mostrandovi in diretta le celebrazioni dal salone metaorense di palazzo ducale della prefettura di pesaro momenti davvero toccanti che riviviamo in questo servizio una lunga mattinata nel segno della memoria costruita sulla forza emotiva degli elaborati degli studenti di pesaro principali destinatari dei ricordi dell'orrore dell'olocausto e conclusa con le medaglie d'onore ai familiari pesaresi di deportati e internati nei lager nazisti così palazzo ducale di pesaro ha onorato il giorno della memoria in una lunga mattinata organizzata congiuntamente da prefettura comune e ufficio scolastico provinciale in quella che è stata anche la prima uscita pubblica del nuovo prefetto emanuela saveria greco una tragedia impossibile da comprendere ma da conoscere necessariamente come ha scritto primo levi ed è nostro dovere però ricordare anche ciò che fecero i giusti tra le nazioni durante l'olocausto oltre 26 mila nel mondo appartenenti a 51 diversi paesi ed oltre 600 italiani prefetto che nell'occasione ha consegnato quattro medaglie d'onore ai familiari di alfredo guidi di petriano che fu deportato e liberato dal lager di cracovia di mario isotti di fano liberato e deportato da lipsia del pesarese ugo tamburini che morì nel lager tedesco di gelsenkirchen del cagliese antonio truffelli che si salvò dal campo di concentramento di buchenwald epilogo commosso di un viaggio nella memoria dell'orrore che nel salone metaorense è stato condotto per mano dagli studenti delle scuole superiori accompagnati dalle musiche del conservatorio rossini nel giro di qualche anno le parole di chi ha vissuto quella tragedia saranno solo sui libri se noi che abbiamo avuto il privilegio di ascoltarne non le capiamo fino in fondo anche quando è scomodo allora le stiamo tradendo ci stiamo voltando dall'altra parte e permettiamo che piccoli semi grigi si facciano neri e poi crescano oggi non è solo un giorno per ricordare è un giorno per scegliere chi si vuole essere è importante condannare ogni parola d'odio ogni più flebile cenno di disprezzo di violenza di discriminazione nei confronti dell'altro del diverso ogni minimo accenno di recrudescenza di razzismo e antisemitismo nel suo discorso il sindaco matteo ricci ha esternato riflessioni frutto del suo stretto rapporto con la senatrice a vita liliana segre quando il ragionamento e la discussione va sui temi della dell'olocausto della memoria lei finisce sempre la la sua discussione il suo dialogo con un grande timore il timore che dell'olocausto rimarrà soltanto un paio di righe rimarranno soltanto un paio di righe sui libri di scuola che quando i testimoni viventi non ci saranno più ahimè ne sono rimasti davvero pochi gradualmente la storia dell'olocausto finisca nell'oblio ed è per questo invece che è stata creata la giornata della memoria perché ogni giorno ogni anno il paese le istituzioni le scuole insieme ai giovani rinnovano questo sforzo che è uno sforzo di civiltà ed è uno sforzo di futuro quello di ricordare la pagina più buia della storia dell'umanità e gli elaborati delle scuole sono stati i protagonisti sia dentro ma anche fuori la prefettura vediamo in tal senso la performance portata in piazza del popolo nel giorno della memoria dagli studenti del liceo mengaroni un lungo corteo silenzioso di studenti vestiti totalmente di nero marchiati dalla stella di david una processione che dal liceo mengaroni ha risalito il corso per confluire in piazza del popolo dove è stato deposto un mazzo di rose bianche sui fogli fossili ovvero sul monumento intarsiato nel marciapiede a perenne memoria degli orrori della shoah è cominciato così il giorno della memoria pesaro con una performance scenica degli studenti del liceo artistico in mezzo ad un silenzio rotto solo dal rumore del vento e dall'intonare di poesie e canzoni che hanno sottolineato il senso evocativo del 27 gennaio liceali che assieme agli altri studenti delle superiori cittadine hanno poi partecipato alle celebrazioni in prefettura hanno percorso il tratto di strada dalla scuola alla piazza quindi il tema del viaggio e c'è stata una lettura bella profonda un invito quindi a non dimenticare sono momenti importanti di riflessione di crescita perché la memoria deve rimanere viva accesa nelle menti e nei cuori dei ragazzi e delle ragazze dei giovani perché i testimoni i testimoni stanno lasciando il loro messaggio e deve essere questo messaggio recepito con attenzione con cuore aperto con mente sane critica dalle nuove generazioni perché non deve più accadere ciò che è stato lo studio che abbiamo fatto è stato più emotivo di saperi che corrispondono a questo momento è stato un momento anche un po complicato anche perché le sensibilità sono tante e devo dire la verità che la loro reazione è stata molto molto significativa anche dal punto di vista della massa critica che hanno tirato fuori rispetto alla vicenda che noi abbiamo raccontato perché il mengarone non è come tutti gli altri dicei il mengarone ha la testa a metà e quindi i ragazzi sono preparati a porsi delle domande e non a chiedersi delle risposte tante emozioni ho avuto non riuscire nemmeno a spiegarlo con le parole adesso davvero è bellissimo questa esperienza che ho fatto anche con il prof donini è stato lui a scegliermi mi ha fatto piacere questa giornata e credo che dovrebbe essere importanti per tutti noi ragazzi ci dovrebbe fare capire tante cose che il mondo è stato crudele e tuttora lo è e dobbiamo pensare al nostro futuro e cercare sempre di migliorarlo molto importante perché comunque si ricorda ciò che è stato in passato e secondo me si deve sempre ricordare questa giornata perché comunque le persone che hanno vissuto sono sopravvissute in quei campi stanno morendo e il ricordo potrebbe scomparire però se noi ragazzi ci impegniamo a continuare a farlo rimanere tra noi questo ricordo non svanirà mai è stata una cosa molto molto seria e mi è stato un sacco perché comunque è un gran simbolismo passare così nella strada e appunto arrivare in piazza e fare questa specie di protesta per ricordare rivoluzione nella gestione della sanità pesarese come vi avevamo preannunciato ieri dopo otto anni di direzione dell'azienda ospedaliera Marche Nord Maria Capalbo lascerà la provincia di Pesaro Urbino dopo che la regione Marche l'ha nominata nuovo direttore generale dell'IRCA di Ancona da questo gennaio la Capalbo era stata nominata commissario straordinario della neonata azienda sanitaria territoriale 1 ora a dirigere l'azienda pesarese sarà Gilberto Gentili che era in corsa proprio con la Capalbo per l'IRCA Gentili già direttore sanitario Asur e direttore del distretto di Senigallia sarà commissario straordinario della ST1 in attesa del bando di concorso che nomini il direttore generale. Ed ora la cronaca con un fanese di 50 anni che è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione di biciclette rubate carabinieri che nelle ultime settimane avevano ricevuto diverse denunce di furti soprattutto nel centro storico le indagini hanno così rilevato che diversi di queste bici erano state messe in vendita online. Sono dunque risalite al venditore e sono cominciati appostamenti nei pressi della abitazione dove si è notato che l'uomo rincasava spesso con bici differenti e si soffermava spesso ad osservare rastregliere. E' scattata così la perquisizione e nel garage sono state trovate otto bici quelle che vi stiamo mostrando in queste immagini bici ritenute di provenienza furtiva e del valore complessivo di 4.000 euro. Sono in corso gli accertamenti per risalire ai proprietari attraverso anche le immagini che vi stiamo proponendo. E in un nostro servizio di ieri vi abbiamo mostrato lo stato di allagamento derivato dalla piena del foglia nei pressi delle casello autostradale di Pesaro. Allagamento che come vedremo ha messo davvero in ginocchio la sede delle giacche verdi. Stalle vuote ma piene d'acqua. Messi in salvo i cavalli e qualche mezzo le giacche verdi di Pesaro contano ora i danni creati dal maltempo. Quasi 4 ettari di terreno rimasti sommersi dalla forza del foglia che in piena ha scavato sottoterra gli argini creando una fessura di circa 8 metri finendo poi per allagare l'intera area attorno a strada dei pioppi. Dalla famiglia Marfoglia che ha visto la propria casa circondarsi d'acqua in poco tempo così come le abitazioni vicine al casello autostradale. Momenti di panico e di allarme quello che ha lanciato alle 16.59 di lunedì il presidente delle giacche verdi Luca Bezziccheri al consorzio di Bonifica. Attimi di terrore che al mattino dello stesso giorno non avrebbe mai pensato di poter vivere. L'unica mattina ci siamo alzati vedendo il tempo come era così impervio siamo venuti a controllare. Quando sono venuto qua la mia premura e subito andare a vedere il fiume, lo stato del fiume qui vicino a noi, io di solito metto due aste, due bastoni, uno nell'acqua uno fuori nell'asciutto per vedere a distanza di qualche ore o due ore se il fiume sale o scende per i vari tipi di allarmi che potrebbero essere ed eravamo tutti nella norma. Invece dopo nel pomeriggio noi eravamo qui al presidio a guardare i nostri cavalli, fare un controllo come di routine e verso le 4 e qualche cosa mia premura di riandare a vedere questi due bastoni. Prendo e mi incammino con un altro signore che è qua con me. Mentre ci incamminiamo vedo dell'acqua in questo campo qui di fronte a me che questo è sempre giusto come altri terreni nostri, qui intorno era tutto a posto ma mi era strano quest'acqua qui e ho cominciato a guardare da dove poteva venire e ho visto del bollio dell'acqua sotto quella pianta grossissima là con dell'edera. La mia premura sono andato a vedere subito anche là da dove poteva venire se l'argile, la piena poteva aumentare invece stava diminuendo da questo segnale che ho messo io e cosa ho fatto? Ho chiamato io il consorzio, ho dato io l'allarme perché ho detto lì comincia a bullire l'acqua, lì fra un paio d'ore, non lo so può essere un'ora o tre ore, lì l'argine lo rompe, vivo dal fiume da sempre, essendo un osservatore ma anche una guardia, ho sempre controllato il fiume, lo conosco bene il fiume Foglia come le mie tasche e difatti è successo così perché ho chiamato il consorzio, gli ho detto che c'era questa allarme di avvisare a tutti, dai pompieri, carabinieri, qua ci sono le famiglie, che il fiume sarebbe entrato dentro, abbiamo fatto in tempo di mettere in sicurezza i quattro mezzi che siamo riusciti a spostare, prendere tutti i nostri uomini a disposizione, sono arrivati i pompieri, sono arrivati quello che c'era, abbiamo preso l'autorizzazione di loro per spostare i cavalli alle sei e mezza circa, abbiamo spostato i cavalli a piedi e qua c'era già un metro d'acqua, il fiume è entrato da quel buco qui alle nostre spalle, lo Stato dunque è la regione e questo argene qui non l'hanno mai mantenuto, non l'ho mai fatto, io che viaggio qui intorno non ho mai visto una ruspa a vedere se c'è un buco o quant'altro, non è che ha scavalcato, è successo qui da noi e io ho fatto il tempo a dare l'allarme perché conosco le famiglie che ci abitano, conoscono i marfogli che hanno le loro difficoltà, conosco quello che c'era, mi sono premonito dicendo questa cosa. Così come le case attorno alle giacche verdi, anche le stale dei cavalli si sono scontrate con l'acqua del fiume. In queste ore infatti è intenso il supporto che la protezione civile comunale sta dando, con l'intento di liberare il prima possibile lo spazio per i cavalli ora occupato dall'acqua. La cosa però che voglio dire è che i cavalli li abbiamo messo subito in salvo, alla sera stessa abbiamo trovato che ci hanno ospitato i vari centri ipici, grazie a tutti quanti che hanno dato la collaborazione. Ora le giacche verdi si ritrovano con gran parte del terreno di loro proprietà inghiottito dall'acqua del fiume e finché l'area non verrà messa in sicurezza i cavalli non faranno rientro nella loro dimora. Se non riusciamo un po' a pomparlo, a metterci in sicurezza ci vorrà un anno prima che si assorba, forse anche di più. Ma quello non sarebbe un problema, vedere un laghetto, vengono degli uccelli, tutto quello fa parte della migrazione, è bello anche da vedere. Bisogna metterli in sicurezza per vari motivi, perché lì abbiamo tre metri di acqua, il punto più alto sono tre metri di acqua, mettersi in sicurezza vuol dire avere un buon senso di buttare fuori quest'acqua. Non so come gli istituzioni si devono mettere d'accordo fra loro, non so, la regione, genio civile, provincia e comune parlano fra di loro per metterli in sicurezza, così stiamo tutti più tranquilli. E proprio gli eventi di maltempo degli ultimi giorni accendono di nuovo i riflettori sul tema della prevenzione al dissesto idrogeologico. Secondo il sindaco di Cartocetto, nonché consigliere provinciale Enrico Rossi, la ricalibrazione dei fondi PNRR rappresenta un'occasione da non perdere proprio per mettere in sicurezza i territori fragili. E' quanto mai attuale, in ordine un po' anche a questi obiettivi, la volontà del governo di ridiscutere con l'Unione Europea del PNRR e in modo particolare delle risorse che sono destinate alle diverse misure del PNRR. Ci sono già due miliardi e mezzo, se non ricordo male, destinati a interventi di litigazione, di riduzione di rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, ma la ricognizione a livello nazionale di quella che è la situazione sull'intero Paese dimostra evidentemente che queste risorse non sono sufficienti. Quindi questa è sicuramente l'occasione giusta, cioè quella di ridiscussione delle risorse destinate a questo tipo di misure all'interno del PNRR per aumentare questo tipo di risorse, per aumentare e garantire la sicurezza del Paese, delle vite umane, delle nostre attività economiche, produttive, delle ricolture, di tutto quello che ruota attorno al campo del turismo, soprattutto se, così come mi pare a più livelli istituzionali si convenga negli ultimi anni, vogliamo cercare di valorizzare e di sviluppare i nostri bordi. Senza sicurezza è molto molto difficile ovviamente pensare di fare tutto ciò. Andando nello specifico del Comune di Cartoceto, quali urgenze avete affrontato? Abbiamo fatto tanto, abbiamo cercato di intercettare risorse sicuramente importanti, sono in via di completamento i lavori di ricostruzione di piazza Marconi per 341 mila Euro e la prossima settimana saranno avviati invece i lavori di colmatura della voragine che si è creata in via 4 novembre e a partire dalla prossima primavera invece saranno avviati anche i due cantieri di via delle Mure e piazza Garibaldi da un lato per 430 mila Euro e dall'altro quello di via Cavure e via del Santuario per 810 mila Euro. Questo non significa che il nostro territorio è messo al riparo da qualsiasi rischio, tutt'altro ho colto davvero con grande favore la ricognizione promossa a sul finire del 2022 dalla prefettura di peso urbino circa quelle che sono state e sono tutt'ora le maggiori criticità in ambito di liste derivanti dal sestro idrogeologico, anche nel nostro territorio purtroppo ce ne sono di altre situazioni alle quali non riusciamo a far fronte con le risorse a disposizione con il nostro bilancio, penso all'ulteriore ultimo crollo lungo via delle Mura per il quale come amministrazione avevamo già predisposto uno studio di fattibilità per circa 1 milione 150 mila Euro, penso alla messa in sicurezza degli argini in prossimità delle abitazioni civili del corso d'acqua a Rio Secco per circa 400 mila Euro, penso all'eccessivo accumulo delle acque meteoriche all'interno del centro storico di Cartoceto per altri circa 100 mila Euro, la messa in sicurezza di via Briglia per oltre 100 mila Euro e anche un tratto di muro perimetrale lungo via Peschiera sempre all'interno del centro storico di Cartoceto, quindi questo dimostra ampiamente come tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni, anche nel nostro piccolo, anche nel nostro territorio, nonostante le tante risorse intercettate, siamo ormai soltanto nel centro storico di Cartoceto a circa 3 milioni e mezzo di Euro spesi in questi anni per interventi finalizzati alla riduzione, alla mitigazione degli effetti da dissetto geologico non sono sufficienti, ecco perché sostengo che serva un grande piano nazionale di messa in sicurezza, di ricostruzione, di prevenzione, purtroppo non sono sufficienti, è stato fatto un gran lavoro ma non basta e sicuramente la forza e la volontà con cui il governo vuole ridiscutere la misura del PNRR insieme all'Unione Europea va da parte degli enti locali, da parte dei sindaci, sostenuta davvero con grande forza. Il Comune di Pesaro informa che a partire dalle 9 di mattina di lunedì 30 gennaio, per circa 20 giorni, strada delle case bruciate sarà chiusa al traffico per lo svolgimento di lavori per conto di marche multiservizi. La modifica della viabilità della via del quartiere è stata prevista per garantire operazioni propedeutiche alla realizzazione delle opere compensative di società autostrade al casello della 14. I percorsi alternativi per raggiungere l'abitato di case bruciate saranno strada degli smenatori e via della Selva Grossa dal lato urbino e strada di Raschieto e strada della Campanara dal lato mare. E arriviamo alla notizia del vasto incendio che si è sviluppato attorno a mezzogiorno all'interno del reparto di laminazione dell'azienda Profilas di Bellocchi di Fano, già vittima di un importante rogo circa un anno e mezzo fa. Fiamme che sarebbero divampate in seguito a un malfunzionamento meccanico che ha creato scintille incendiare sull'olio contenuto nella laminatrice. I vigili del fuoco sono intervenuti con cinque mezzi e sono stati in grado di sedare il rogo in appena un quarto d'ora. Non ci sono stati feriti ma l'ARPAN farà ora verifiche sulla qualità dell'aria. E passiamo alla Camera di Commercio delle Marche che oggi ha pubblicato i dati su nascita e mortalità delle imprese nel 2022 e i risultati sono tutt'altro che confortanti nell'ultimo anno per quel che riguarda la regione Marche. La secessione di due comuni come Sassofeltro e Montecopiolo combinata la grave crisi manifatturiera all'inflazione ha portato ad un saldo di meno 929 imprese fra le 7.193 iscritte e le 8.122 cessazioni nette. Insieme al Molise si tratta dell'unico segno meno in tutta Italia che mette le Marche all'ultimo posto di questa classifica relativa alla nuova vitalità imprenditoriale. Passiamo a Marche Multiservizi che invita a segnalare guasti o accensioni dei punti luci fuori orario al numero verde di pronto intervento illuminazione pubblica 800 498 616 attivo tutti i giorni 24 ore su 24. L'azienda dunque invita a segnalare queste situazioni in modo tempestivo per aiutare a intervenire nel minor tempo possibile e nel raggiungere l'obiettivo della sostenibilità ambientale e risparmio energetico evitando gli sprechi e garantendo un servizio di qualità. Si ricorda che l'illuminazione pubblica di Pesaro consuma il 55% dell'energia che era richiesta nel 2016 un risultato raggiunto grazie agli sforzi compiuti che può migliorare ancora però segnalando le anomalie al numero che vi abbiamo mostrato. Controordine la diciannovesima edizione della Colle Marathon si farà regolarmente il 7 di maggio. La regione e i comuni attraversati dalla corsa hanno espresso volontà e garanzie di fornire il massimo sostegno a livello logistico economico al comitato organizzativo. I tempi per l'organizzazione sono sempre più stretti ma il consiglio direttivo ha accettato la sfida anche se è consapevole che richiederà il massimo impegno da parte di tutte le componenti sportive di volontariato e istituzionali. E passiamo agli spettacoli. Prosegue con un debutto la stagione teatrale della piccola ribalta. Domani sabato 28 gennaio alle ore 21 e domenica 29 alle 17 nel teatro di Via dell'Acquedotto esordisce Io, Pessoa e i miei mille volti. Viaggio tra poesie e sogni da Il Marinaio e altri iscritti di Fernando Pessoa per la regia di Antonella Gennari e Mario Cipollini. E il teatro ci offre spunto anche a nuove opportunità di lavoro per quel che riguarda i mestieri del palcoscenico. Rientra in questa logica il corso per attrezzisti di scena lanciato dal Rossini Opera Festival e dalla Regione Marche. Il Rossini Opera Festival assieme a Cometa e Regione Marche dal via a febbraio ad un nuovo corso gratuito di formazione professionale per attrezzisti di scena. Figure presenti in molti settori dello spettacolo che si occupano di reperire, modificare e installare sulla scena curando eventuali spostamenti e conservazioni di materiali. Si tratta di un corso completamente gratuito aperto a soli 14 partecipanti compresi tra 18 e 64 anni residenti nella Regione Marche. Saranno ben 600 le ore totali di formazione divise fra lezioni frontali e stage in cui gli allievi dovranno garantire una frequenza di partecipazione di almeno il 75% conquistando così l'attestato di qualifica solo dopo un esame finale. Un progetto culturale che offre una formazione lavorativa che potrà portare a nuovi posti di lavoro e aprire il sipario del palcoscenico anche a chi lavora dietro le quinte. Il festival crede molto nella formazione e nella didattica quindi ci sono diversi programmi appunto che vanno in questa direzione dall'Accademia Rossiniana al tradizionale corso di formazione per cantanti al programma Crescendo per Rossini che porta nelle scuole di ogni ordine e grado la conoscenza di Giochino Rossini e della sua musica e anche con la formazione tecnica. È una storia che parte da lontano perché già tanti anni fa abbiamo avviato questo percorso di formazione che ha consentito al festival di dotarsi di maestranze di primissimo livello, gran parte delle quali formate direttamente in casa. Questo corso segue uno fatto un paio di anni fa sempre con una formula simile sempre grazie all'appoggio della regione che ha consentito di avere risultati straordinari perché su 15 corsisti 6 sono stati immediatamente impiegati dal festival e altri due lavorano abitualmente nei teatri di tutta Italia. La regione finanzia un corso che si impegna ad aumentare la professionalità delle marche e allo stesso tempo crea persone specializzate e competenti anche in vista del 2024 che vedrà Pesaro al centro del contesto culturale nazionale. Mai nessun corso può essere meglio calibrato che in questa città, in questa provincia, in questo momento soprattutto dove ci apprestiamo a celebrare Pesaro e Urbino e la nostra provincia intera come città della cultura. Di conseguenza è una scelta secondo me motivata, interessante e che trova qui anche solide radici culturali storiche. Noi stiamo formando centinaia e centinaia di giovani ma anche non giovani nella nostra regione perché oggi il mondo del lavoro cambia molto repentinamente e se non ci si adegua diciamo alle nuove attività lavorative anche continuando a lavorare nello stesso luogo magari a volte non si esce più a essere competitivi. Un corso che dà la possibilità di formarsi e riformarsi dando l'opportunità a chiunque di intraprendere un nuovo percorso lavorativo in un settore in cui servono persone competenti ma anche passione. Ho partecipato a questo corso dove c'è stata una parte di teoria, di ore di teoria e poi una parte di pratica proprio direttamente nei laboratori del Rossino Opera Festival dove c'erano tutte le materie tecniche da costruzione, meccanica, attrezzeria, tutta gestita e seguita da docenti molto esperti e professionali che hanno trasmesso la loro conoscenza di anni di esperienza al ROF e non solo a noi allievi e questo mi ha dato l'opportunità nei due anni successivi di collaborare appunto nelle stagioni 2021-2022 proprio nel ROF e quindi spero anche di poterlo fare anche in quest'anno nei prossimi anni. Opportunità di lavoro dietro le quinte, opportunità anche nella ristorazione ed è sicuramente ben avviata in tal senso la ragazza studentessa dell'alberghiero Santa Marta protagonista del prossimo servizio. L'istituto alberghiero Santa Marta non sforna solo piatti ma pure talenti che a loro volta sfornano piatti da premio. È il caso della diciannovenne fanese Denise Ambrosi della quinta bissezione cucina che ha vinto il titolo regionale come miglior allievo istituti alberghieri. Si diventa primi in questo settore tirando fuori tutti gli strumenti, tutte le armi, combattendo e tanti sacrifici ci devono essere dietro a questi traguardi. In questo caso le mie armi sono la grinta, la forza, la voglia di arrivare a punto prima. Devo ringraziare soprattutto al mio lavoro perché io ormai sono tre anni che lavoro e all'esempio meraviglioso dei miei genitori che hanno iniziato a lavorare da quando sono giovani e anche davanti alle difficoltà non si sono mai piegati, hanno sempre combattuto. È stata una grandissima soddisfazione, devo ringraziare soprattutto alla formazione che mi ha fornito il mio prof Gabellini Roberto che è il mio professore di cucina da cinque anni ma anche la formazione per quanto riguarda il concorso che mi ha fornito Giacomo Santini che è sempre un professore bravissimo di cucina. Da campionessa regionale che ha battuto altri sette studenti marchigiani ora Denise si cimenterà con le sfide nazionali che si terranno a Rimini. Le nazionali sono pesanti lì, non ci sono sette persone ma ce ne sono un po' di più, però l'importante è partecipare dopo come va, va. E con questo servizio si chiude questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. Prima dei saluti però vi ricordiamo la nostra prima serata dedicata nel giorno della memoria proprio alle commemorazioni che vi abbiamo mostrato poco fa in prefettura. potrete rivedere tutta la versione integrale di questo appuntamento che vi abbiamo trasmesso in diretta questa mattina per chi se lo fosse perso l'occasione di rivederlo questa sera alle 21.20. E poi vi ricordiamo l'appuntamento con Spazio Z è già andato in onda in prima edizione alle 19 ma potrete rivedere a partire dalle 23 la prima replica dei racconti della generazione Z raccolti dalla nostra Letizia Moretti che questa volta ha intervistato i ragazzi dell'istituto Benelli di Pesaro. Replica come detto alle 23 e poi altre repliche, quelle che vedete in grafica, dal sabato al mercoledì. E poi l'informazione su Rossini TV torna domattina puntuale alle 7.20 come sempre in diretta con Buongiorno Rossini. Rassegna stampa dei quotidiani locali che in questa edizione del sabato sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi. Ed è davvero tutto per questa sera, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi.